carissimi amici e amiche bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi su teneramata siamo giunti alla puntata numero 10 speriamo che anche questa sera riceveremo un pochino di come sempre ma sicuro non per quello che dirò io per quello che ascolteremo un po di di allegria soprannaturale ecco di gioia di speranza di desiderio ulteriore più di quanto spero che già ce ne abbiamo del del cielo che il motivo per cui siamo stati creati in effetti questo testo a mio avviso una delle cose più belle che che realizza proprio ravvivare fortemente il desiderio del paradiso se è già presente e farlo venire allora sia latitante alla volta scorsa ci siamo un pochino intrattenuti nei vortici di un amore immenso ecco quindi se teneramata ci ha stimolato molto sull'amore di dio no addirittura concludendo con un approccio e con un riferimento all'amore sensibile verso dio di cui si lamentava che nemmeno alcuni bravi predicatori parlerebbero ma invece una dimensione costitutiva assolutamente costitutiva ed essenziale della nostra vita cristiana di fede e di orazione riprendiamo quindi da lì ci siamo fermati il capitolo 9 era un pochino più ampio dei precedenti e quindi continuiamo la lettura appunto da dove ci siamo fermati come sempre meglio leggere l'ultimo capoverso quindi dell'amata spiega perché non si parla dell'amore sensibile di dio a causa del peccato e allora come puoi capire la divina provvidenza ha preferito il limitare l'aggio di azione dei suoi amati figli adottivi umani e li ha messi dentro le transenne di questo mondo che impediscono di scorazzare per terreni altamente pericolosi questa è la causa delle limitazioni individuali sociali politiche scientifiche tecnologiche ed artistiche adesso riccardo riprende ma con tutto ciò alcuni scienziati se ne sono usciti ormai dal seminato e sono arrivati sulla luna altri tengono spaventata l'umanità con le loro birichinate atomiche sì mi rispose seguendo il tono scherzoso ma nessuno di loro gattoni potrà arrivare molto lontano nostro padre celeste li custodisce amorosamente dall'alto e se si allontanassero un po' troppo li prenderebbe affettuosamente nelle braccia e li riporterebbe nel loro primitivo recinto lui li lascia giocare cacciarsi nei pasticci delle volte pericolosamente per rispetto alla libertà umana che egli diede loro sì meglio fare un primo pit stop perché qui abbiamo un'indicazione importante per quanto riguarda le pretese prometeiche e folli dell'uomo come dire sedotto e rapito dalla scienza con l'h finale ovviamente quindi nel senso di chi si pensa che la scienza parola oggi a cui si deve venerazione adorazione assoluta mentre a dio non si rende praticamente più culto in nessun mondo quando si nomina la scienza spegniamo la luce insomma perché questi si pensano di essere ecco per alcune per carità cognizioni il progresso scientifico è un fatto reale noi sappiamo molte più cose adesso che anni addietro e con un sufficientemente grado anche di certezza e di incontrovertibilità però stiamoci sempre calmi perché nel senso qui Teneramata sta dicendo che nessuno potrà arrivare molto lontano e che quando qualche scienziatello si mette a fare qualche giochetto un po' pericolosetto e adesso ne stanno facendo non pochi detto fra me e voi per un po' nostro signore li lascia fare per rispetto della loro libertà e li lascia cacciarsi nei guai come dice qui pericolosamente dopodiché a una certa dicono a Roma dice stop e ti riporta nel recinto dove sei stato messo quindi con questo ecco chi ha orecchi per intendere intenda ecco perché per carità la scienza di per sé è cosa buona il progresso sotto tutti i punti di vista di per sé è cosa buona fermo restando che se ne faccia poi un uso consono e conforme alla legge di Dio come tante volte ho detto questi strumenti che noi utilizziamo come dire come canali di evangelizzazione per me che li uso come dire insorgente in questo modo e per chi li riceve in destinazione in questo modo viva Dio ma sappiamo bene che l'uso largamente più largamente diffuso di questi strumenti non è proprio sempre del tutto positivo e conforme alla legge di Dio procedo con la lettura potrebbe il viatore uscirsene lecitamente dalle limitazioni di queste transenne provvidenziali? possono svicolare ogni tanto? certo molti ci riescono se questo serve loro per raggiungere il cielo basterebbe che il cristiano mortale stando in grazia di Dio lo chiedesse al Signore con autentica sincerità umiltà e perseveranza non per egoismo ma per curiosità malsana che rivolgessi alla sua preghiera di petizione in spirito e verità con la fiducia filiale che il nostro padre lo ascolterà efficacemente tu stesso ne sei testimone in questo paradempo sì risponde Riccardo ma Dio ha tardato più di vent'anni ad ascoltare la mia petizione di conoscere qualcosa della vita futura ma finalmente lo hai ottenuto e risponde non ne sei contento? dai più importanza al tempo trascorso? avresti preferito che il Signore ti avesse ascoltato immediatamente malgrado i tuoi peccati di allora che non ti avrebbero consentito di ricevere l'azione divina il nostro Dio aggiunse per convincermi è lento nell'attuare ma non per sua volontà ma per la pigrizia morale del viatore nonostante tutto non potrai negare che Lui ti ama e ti ama moltissimo già che alla fine ti accordò il tuo capriccio ma se tu avessi progredito nella perfezione cristiana già da molto tempo sapresti tutto questo che oggi ti dico qui amici miei potremmo starci fino a mezzanotte su queste su queste considerazioni molto belle allora possiamo farci arditi nella preghiera anche uscendo dai limiti in cui ci ha messo il nostro Signore Terenamata ci dice sì e Riccardo l'ha fatto Riccardo ha detto al nostro Signore ti prego fammi conoscere qualcosa della vita futura attenzione domanda fatta fatta sicuramente non per egoismo attenzione ci sono delle condizioni non per egoismo né per curiosità malsana quest'uomo non è che voleva andare a curiosare sull'aldilà ma voleva in qualche modo avere un ulteriore come dire sigillo su una fede che già c'era che rafforzasse come poi le dice gli dice molte volte Terenamata le sue convinzioni pratico-operative e non l'ha ottenuto subito a causa dei suoi peccati di allora e se tu avessi progredito nella perfezione cristiana da mo' che sapresti tutte quante queste cose qui non si capisce se lo intende nel senso che questa esperienza che sta facendo sarebbe accaduta prima o addirittura che senza bisogno di questa esperienza grazie a un elevato grado di perfezione e quindi di luce sopranaturale avrebbe potuto acquisire conoscenze non molto dissimili da quelle che stava adesso acquisendo in modo straordinario non si capisce bene almeno al momento vediamo se poi continuando la lettura si chiarifica in ogni caso quello che sta dicendo la cosa più importante è farsi i santi tendere con risolutezza la santità e un'altra cosa molto bella è che il Signore che ci ama tanto se abbiamo qualche capriccio santo quindi non mal sano lo soddisfa lo soddisfa possiamo farci audaci nel chiedere questo è un nuovo punto di contatto per chi conosce la Divina Volontà con la Divina Volontà perché nella Divina Volontà sappiamo benissimo che Dio addirittura gioca con la sua creatura si diletta si trastulla e gode nel vedere la creatura che gioca con lui che si trastulla e che viene sorpresa dalle sue nuove invenzioni d'amore provate perché io veramente personale esperienza delle volte dico al Signore dico ma non è che starò facendo una cosa che non va bene ma io ti ringrazio anche di questa piccola cosa che mi è arrivata questa piccola soddisfazione terreno questo piccolo desiderio esaudito un ultimo è arrivato l'altro ieri cioè dico ma siamo sicuri che io ti posso perché almeno io la percepisco così cioè dico ma facciamo fatica noi a pensare che Dio possa come dire esaudire un nostro desiderio lecito ovviamente però di cose di piccole cose che ci danno qualche piccolo diletto in questo mondo ci sembra che lui non si piega dall'alto mica gli ho detto di farmi diventare un grande santo mica gli ho detto di che ne so di farmi diventare un po' meno impaziente cioè questa sicuramente è una preghiera che il Signore pensiamo che almeno lo ascolti poi ma se io ho un desiderio e mi viene esaudito un desiderio quei pochi che possiamo avere no? oppure di tutti i maestri di spirito dicono di non di non chiedere mai al Signore esperienze soprannaturali dirette no? in effetti lui non è che gliel'aveva chiesto lui gli aveva detto dammi soltanto la possibilità di conoscere un po' meglio ciò che accade ciò che ci attende nella vita futura riprendo la lettura eh amici dall'ultimo capoverso ma se tu avessi progredito nella perfezione cristiana già da molto tempo sapresti tutto questo che oggi ti dico e se tu ancora senza essere un perfetto cristiano non lo è neanche adesso stai ottenendo un singolare aiuto divino quanto di più otterranno se si impegnano quelli che amano davvero il loro creatore e credimi che realmente lo ottengono tu non puoi immaginare gli aiuti e i regali del nostro Dio a coloro che in questa vita lo servono e lo amano sul serio numerosi mortali che prendono sul serio il Signore ottengono da lui regali più pregevoli di quelli che tu stai ricevendo di queste cose se ne parla assai poco essendo doni privati oppure perché il beneficato non riesce a spiegarli io vi posso dire da sacerdote che quello che dice Tere Ramata è verissimo è verissimo noi pensiamo sempre alle esperienze mistiche come cose straordinarie che ne so il veggente che riceve il messaggio e poi deve diffonderlo e poi c'è il segreto su questo su quell'altro oppure la grande estasi tipo Santa Teresa non ci sono soltanto queste cose ci sono una montagna di piccole carezze soprannaturali piccole medie o anche grandi che il Signore dona alle anime un prete sa qualcosa perché glielo raccontano ma trattandosi di cose molto personali e molto private non bisogna raccontarle in giro perché sono i segreti del re oppure a volte si fa fatica a spiegarli oppure ci si rende conto e assicuro che se si raccontasse una cosa di questo genere anche a una persona credente si sarebbe presi per pazzi o per fuori di testa o per visionari o per come dire roba del genere cioè Dio fa una montagna che ne farebbe molte di più sappiamo dai libri di cielo il Signore ci straricolmerebbe di bene se trovasse in noi le disposizioni per poterlo ricevere prima cosa è prendere Dio sul serio sul serio servirlo e amarlo sul serio è chiaro che non riceverà assolutamente nulla da Dio chi lo ignora chi non lo serve chi non lo ama chi lo trascura chi lo disprezza chi lo bestemmia non riceve niente da Dio se non gli aiuti necessari a raggiungere la salvezza e a mantenersi nell'essere in questo mondo questo Dio li dà a tutti ma le chicche non sono riservate a grandi santi chissà tu non sei un perfetto cristiano già stai ricevendo questa cosa grossa presumibilmente però questo era un cattolico che ci provava ad amare a servire un pochino al Signore se l'umanità attuale riprendo a leggere soffre molto è perché la superbia non le permette di chiedere il rimedio dell'Altissimo guardiamoci in giro e guardiamoci intorno soffre molto l'umanità è chi si mette in ginocchio a chiedere aiuto all'Altissimo quando la stragrande maggioranza di governanti scienziatoni professoroni vivono come se Dio non ci fosse pensano anzi stanno pensando di costruire un mondo senza Dio e stanno anche impegnando a farlo i regali divini morali e spirituali sono condizionati all'ubbidienza alla legge del nostro Dio regali divini attenzione vedete materiali e spirituali anche materiali a chi gli piace tanto la materia sono condizionati Dio non le fa queste cose qui al usiamo il termine classico al peccatore peccatore in senso forte non il peccatore in senso comune che ci siamo tutti peccatori nel senso che siamo tendenti al peccato siamo pieni di miserie di imperfezioni e cose di questo genere ma questo modo di essere peccatori non ostacola dice il ricevedore di Dio ma il peccatore quello che pecca volontariamente a occhi aperti ancora non diceva niente da Dio in questo senso ma l'uomo non vuole combattere contro la concupiscenza che lo trascina al peccato riprendo la lettura ne agisce secondo logico se è vero che crede all'onipotente perché non chiede al suo aiuto con verità con umiltà con perseveranza crede all'onnipotente e qui vi invito tanto per fare una cosa nuova che lo faccio in continuazione a ripensare agli ultimi due anni e mezzo chi è che ha chiesto aiuto all'onnipotente chi è che si è affidato dell'onnipotente prima di ogni altra cosa e non è andato a cercare spedienti e soluzioni umane di ogni genere dalle reclusioni forzate ad altro tutti quanti rimedi umani alcuni dei quali è possibile sperirli se uno vuole faccia pure ma chi è che si è rivolto all'onnipotente in primis per sé e per tutti spero tanti è una domanda che che io mi faccio il mondo soffre più del dovuto per colpa della sua deliberata ribellione contro la volontà del Signore si vuole risolvere i problemi con mezzi mondani con esclusione assoluta del Creatore ripeto si ripensi agli ultimi due anni e mezzo per colpa della sua deliberata ribellione contro la volontà del Signore e risolvere i problemi con mezzi mondani con esclusione assoluta del Creatore che è una pazzia proprio cioè fare una cosa di questo genere è se noi potessimo vedere che cos'è questa cosa questa è una pazzia assoluta la religione si riduce ad una psicoterapia periodica di aspirine per calmare momentaneamente l'egoismo sempre esperienza da parro che diceva guardi padre io non io vado a messa quando mi sento quando mi sento ah vado me la godo perché me la sento ma se io ci devo andare per forza tutte le domeniche no perché psicoterapia periodica di aspirine e ovviamente l'amore divino vedendosi respinto si ritrae per elementare delicatezza e i migliori piani vanno a monte se tu Dio non lo vuoi ma lui non si impone lui fa un passo indietro lui è sempre un gran signore ma chi avrà la peggio sei tu e tanti bei piani suoi nei tuoi confronti andranno a monte e se va a monte un piano divino per te o per me poi quando dall'altra parte lo vedremo voglia piagne in purgatorio speriamo o peggio tuttavia nelle chiese oppone Riccardo c'è molta gente che prega sì ma di solito questa preghiera è abitudinaria tiepida pallida timorosa fiacca quasi priva di fede e di carità una simile supplica non l'ascoltano nemmeno i capi politici e neanche i mendicanti la adoperano se vogliono ottenere qualcosa ma ci vuole un grande miracolo per convertire e guarire la società riprende Riccardo e allora chiedetelo sto miracolo voi da soli non lo potete fare per più che vi suggestionate il difetto non è nell'onnipotente è in voi orgogliosi e increduli che non volete cadere in ginocchio e tendere le vostre deboli mani verso il padre che è nel cielo viviamo nel tempo cari amici della della crisi dello stare in ginocchio guardate in giro per le chiese io su questo insomma da quando arrivo come parroco comincio da subito a diciamo che quando andai via dalla precedente parrocchia dopo dieci anni di martellamento in piedi durante la consagrazione non ci stava più nessuno ma dieci anni di martellamento ne sono voluti però eh perché gli ultimi irriducibili a stare in piedi come Baccarà quando scende nostro signore dal cielo ancora stavano in piedi eh qui sono ancora soltanto sei e quindi stiamo ancora in combattimento in ginocchio davanti a Dio davanti a Dio in ginocchio ci possiamo passare pure le giornate intere solo davanti a Dio e davanti a nessun essere umano non ci inginocchiamo dinanzi a nessuno ma davanti a Dio è un onore stare in ginocchio oltre che un dovere è un onore un dovere e un piacere dire a Dio anche attraverso questo gesto io sono nulla dinanzi a te io ti supplico io ho bisogno di te tu sei più grande di me e chi senza nessun motivo grave vero non si inginocchia davanti a Dio diffidate diffidate invece di amarvi tra voi con amore di carità come vuole il Signore vi ostinate ad odiarvi apertamente o dissimulatamente e quando credete di amarvi siccome non lo fate con amore di carità il vostro affetto stagna in un combattimento egoista ognuno prende quello che può dalla sua trincea logicamente il nostro Dio non vi aiuta e le foneste conseguenze di mettere da parte il Creatore piovono su tutti voi come grandine pesante avete questa è una grande lezione questa qui non so se nella precedente puntata di Tenera Amata non vorrei poi ripetermi ma io ho sentito con le orecchie mie dire certe stupidaggini in occasioni di di queste cose che adesso vanno di moda le commemorazioni funebri dopo i funerali io personalmente sempre fuori dalla Chiesa rigorosamente perché se proprio uno vuole ma ma delle volte io ho sentito delle cose che poi uno sta zitto perché ti metti a fare lì in quel dico ma questi che sanno di e mi immagino perché insomma credo di avere la capacità almeno un pochino di rappresentarmi cosa può pensare una persona che è passata nel mondo della verità dico se questi sapessero che tutte queste scretinate che stanno dicendo gli stanno dando un dolore immenso al morto anziché consolarlo va beh un miracolo personale ha bisogno di una supplica individuale un miracolo nazionale ha bisogno di un'impedrazione di tutto il popolo se i credenti di una nazione cattolici protestanti cristiani non cristiani si unissero in una pressante supplica sorretta da opere di amore e di carità non di semplice umanesimo si stupirebbero del meraviglioso risultato la storia di Israele attesta l'onipotenza dell'altissimo ci sono degli episodi meravigliosi questo lo vedremo se Dio vuole nelle catechesi bibliche quando si arriva al libro di Maccabee ai libri di Maccabee è uno spettacolo quello che si inventa nostro Signore adesso entriamo nel capitolo 10 e cominciamo a divertirsi un po' perché te ne è amata dice a Riccardo e adesso ti invito a visitare San Luis Potosi propose te ne era amata Riccardo un viaggio col mio primo amore sul momento mi entusiasmai ma in seguito compresi che un viaggio così per un anziano acciaccoso come me era quasi impossibile vedrai che non è così complicato mi disse insistendo col suo bello sguardo arriveremo a San Luis in meno di un millemilionesimo di picosecondo ricordiamo cos'era il picosecondo perché sennò dobbiamo sempre ripetere le stesse cose capite arriveremo a San Luis Potosi in meno di un millemilionesimo di picosecondo Invece di fare delle obiezioni approfitta dell'opportunità che ti offre il Signore di viaggiare con una celerità superiore alla velocità della luce pur essendo ancora mortale perché amici guardate che queste sono le velocità che ci attendono in cielo più della luce la luce sono 300.000 km al secondo 300.000 km al secondo vuol dire 6 volte il giro della terra tu schiacci l'interruzzante del pulsante della luce conti fino a 1 e quella luce che è partita si è fatta 6 volte il giro della terra chiaro? ma arrivare in quel posto in millemilionesimo di picosecondo è andare molto più veloce che la velocità della luce pensare ai problemi di viaggiare alla velocità della luce questo uno scienziato dice insomma 300.000 km al secondo parla con me come facciamo se ad una velocità di 300 km al secondo la fisiologia umana ignora ciò che accaderebbe all'organismo che succederebbe a più di 300.000 km al secondo continuano le obiezioni le predizioni le predizioni delle moderne teorie relativistiche sono terrificanti ad una velocità superiore alla velocità della luce la materia aumenterebbe la propria massa o forse si disintegrerebbe a questo punto crollano le leggi classiche della fisica il limite massimo e appunto la velocità della luce le linee diventano curve insomma malgrado le oscure previsioni teneramata la si vedeva così bella così radiosa e ottimista che lasciò di preoccuparmi ciò che potesse accadere andiamo dove vuoi mia bella morta esclamare il mio interno che se muoio per la strada meno ancora ti perderò perché due saremo i morti lei di nuovo sfiorò con le dita al dorso della mia mano non seppi cosa accade non sentii nulla quando mi resi conto mi trovavo insieme a teneramata sul marciapiede di un'angusta strada di provincia qui dovrei fare una parentesi la devo fare un po' erudita antiscientista in base a quello che ha detto teneramata ora può essere tranquillamente vero adesso non so come sono arrivate oggi le teorie relativistiche io ricordo quelle che ho studiato più o meno poco dopo che è stato scritto sto libro qui a scuola e poi un po' con un bravissimo professore di filosofia della scienza in seminario la prosopopea della scienza di essere il deus ex machina crolla per esempio dinanzi a un racconto di questo genere cioè che tu viaggi se tu dice se noi andassimo a 300 km al secondo dice quest'uomo dice la fisiologia umana ignora ciò che accaderebbe all'organismo lo regge il mio organismo va a 300 km al secondo le macchine di formula 1 almeno fino a quando se ne sapeva qualcosa andavano circa 300-350 all'ora gli aerei vanno molto molto più veloci no ma vanno circa a 1000 km orari quando stanno in quota c'erano una volta ma li hanno tolti gli aerei supersonici come si chiamavano i Concorde mi pare che andavano a una velocità superiore del suono che è 1800 km l'ora e però non possiamo andare troppo lontano ok e anche insomma gli armamentari che c'hanno i pirodi di formula 1 non è che tu potevano mettere 400 km all'ora così senza il casco senza le cinture senza che ma anche senza un po' d'allenamento fisico insomma perché non ce la fai il problema è che qui siamo in un'altra dimensione e che significa questo è la relativizzazione delle scienze che tra l'altro è stata fatta scientificamente già a suo tempo con la scoperta per esempio dello spazio curvo che relativizzò la geometria euclidea da alcuni grandi scienziati allora per carità la scienza ha delle cognizioni perfette diciamo così esatte ma sono relative cioè relative a questa vita a questa vita in questa terra a queste condizioni con questa atmosfera con questa composizione dell'aria ecco perché non può mai avere la pretesa dell'assolutezza cioè che Dio è uno e trino amici cari stare tranquilli che è vero qui e se esistessero altri cento miliardi di mondi possibili dove lui si è manifestato si è sicuramente manifestato come uno e trino questo non c'è proprio nessunissimo dubbio ma le leggi della fisica che valgono qui siamo sicuri che se esiste da qualche parte dell'universo un altro mondo dove c'è vita intelligente siano valide anche lì ecco la ed ecco qui c'era anche tutto quanto il problema di Galileo capite le verità scientifiche sono utili per carità e funzionano nel nostro mondo bene ci consentono di fare bene alcune cose ma state tranquillo figlio mio non ti pensare di essere il padre eterno e non ti pensare che ha dato vita a un sapere assoluto in nome del quale si devono chinare tutti quanti e in primo il padre eterno perché Galileo affermava che le verità scientifiche per la loro immediata evidenza e incontrovertibilità sono superiori a quelle religiose perché non sono non sono né incontrovertibili né immediatamente evidenti non è incontrovertibile quello che io affermo cioè che Dio uno e trino non è affatto incontrovertibile lo potrebbe dire ma chi l'ha detto io sono un musulmano e per me Allah è uno che me lo può dimostrare d'accordo quindi non sono né incontrovertibili né dimostrabili perché non sono evidenti ma a differenza delle verità scientifiche sono assolutamente universali vabbè chiusa parentesi andiamoci a vedere questo viaggio lei di nuovo sfiorò con le dita il dorso della mia mano sfio bellissimo questa immagine non seppi cosa accante non sentii nulla quando mi resi conto mi trovavo in piedi insieme a Tenera Amato sul marciapiede di un'angusta strada di provincia eccoci a San Luis Potosi mi assicurò col suo sorriso giovanile è un miracolo ma no è molto semplice gli mortali lo chiamerebbero miracolo perché supera le tecniche della scienza attuale invece per i beati non ha niente di prodigioso è un viaggio celeste molto naturale molto frequente poi vedrai come nella patria il più piccolo dei glorificati può viaggiare per propria capacità ad una velocità pari alla velocità della luce elevata alla potenza di un migliaio cioè scusate 300.000 km al secondo elevato a 1000 sapete cosa sono le potenze alla millesima ah se qualcuno è capace di scrivere il numero e prima della fine della diretta me lo dice comincia a prendere carta a penna a farsi un pochino di calcolo attenzione il più piccolo dei glorificati l'ultimo il fanarino di coda è il calimero del paradiso io mi fermo perché dico ragazzi questo è quello che ci aspetta perché se andiamo in paradiso vabbè potremo raggiungere il calimero questo ci tocca perché pure se scaliamo all'ultimo posto se è l'ultimo dei glorificati più a questo questo ci tocca sicuro basta che ce la facciamo di pace beh insomma altra roba anzi ricardo è favoroso tenera amata anzi è cosa da poco ci sono grandi santi che viaggiano con molta maggiore rapidità è ovvio sono andati al massimo nella vita terrena e vanno al massimo nella vita celeste immaginate se qualcuno fortunato che è devoto alla Madonna la Madonna se lo porta a fare un giro insomma vogliamo immaginare la velocità che viaggia la Madonna e sentite che dice quando loro ci invitano quindi i grandi santi che che vanno a palla noi glorificati inferiori godiamo oltremodo e qui c'è Dio Santo Maso d'Aquino che pur in paradiso i glorificati superiori e questo fa parte anche del loro essere superiori e della gloria che gli spetta fanno contento partecipano alcune delle loro cose ai glorificati inferiori che però gli vengono partecipati nel senso che se ti prende padre Pio a fare un giro tu ci vai ma dopo che il giro è finito tu quel giro non puoi rifarlo da solo ok ti devo dire che la celerità dei piangi come pure molti alti piaceri della gloria occidentale dipendono aprire bene le orecchie dal grado di felicità ottenuto mediante la libera collaborazione della volontà umana con la volontà divina fatta dal viatore in stato di grazia durante la sua vita mortale prendere questa frase fare un bello screenshot per chi c'è il digitale oppure trascriverla per chi c'è il libro e ricordarsela a memoria vuoi avere molti piaceri della gloria accidentale e viaggiare alla grande a questo dipende da te questo qui da quanto tu collabori liberamente attenzione a liberamente 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 io non ti forza io non ti forza io assisto in continuazione a scene di anime che piano piano cominciano a conoscere quello che Dio non soltanto quello che Dio vuole sotto forma di precetto ma anche ciò che Dio gradisce ciò che Dio gradisce di più e non lo fanno non lo fanno si trovano una montagna di giustificazioni di cose a destra e a sinistra io a volte vedo queste cose perché ne sono testimone perché faccio il sacerdote quindi le vedo e mi viene tanta tristezza una volta quando ero più giovane per il bene di queste persone le sgridavo le rimproveravo perché dico brutto scemo brutta scemo perché non lo fai cioè ti perderai delle cose meravigliose nell'altra vita e forse tante grazie anche in questa ma non produce buoni effetti allora si tratta semplicemente di dire questo liberamente vuole far così poi piagnerà perché dopo piagnerà sicuro ogni lasciata soprannaturale è persa lasciate perdere le cretinate che dicono i mondiani i mondani questo proverbio lo applicano ai piaceri anche più bassi ogni lasciata è persa no no ogni lasciata è persa sotto questo punto di vista piangeremo tanto perché quello che non abbiamo fatto qui poi non si può fare più non si può fare più non non rimandare se capisci che una cosa Dio la vuole ho capito ma la farò non la farai mai se fai così o anche perché procrastinare perché tardare perché perdere dei giorni in cui acquisire gloria maggiore in cielo come tu vedi il nostro Dio ci glorifica con giustizia e munificenza Dio è giusto questo mettiamocelo bene in testa ma Dio è giusto non significa che Dio è giusto nel senso che castiga chi fa il male no Dio è giusto anche nel premiare il bene il nostro grado di gloria essenziale e accidentale in paradiso sarà rigorosissimamente proporzionato ai meriti che abbiamo acquisito dal minimo buon pensiero alla più grossa opera di carità o di evangelizzazione o di immolazione o di penitenza che noi abbiamo fatto in questa vita rigorosissimamente io invadisco queste cose qui perché se qualcuno ascoltando queste cose le prende sul serio dice alt è ora che cambiamo registro si fa un grandissimo regalo io non voglio grazie né in questa né nell'altra vita per me è semplicemente se dovessi cooperare con il bene di qualcuno per me è soltanto un onore e siccome il nostro signore è contento è un onore doppio ma io non voglio non voglio niente non voglio grazie non voglio non voglio non voglio niente anzi se arriva qualche qualche persecuzione meglio però queste sono cose fondamentali queste qui e ci devono entrare in testa chiunque sta ascoltando queste cose fa ancora un tempo perché non è morto è vivo e quindi può ancora trarre tesoro da queste cose quindi la monificenza di Dio sì Dio esagera nel dare ed esagera pure nel ricompensare ma come non ti fa in questa vita grazie miracoli né chicche se tu non obbedisci liberamente alla sua legge e alla sua volontà così tu non avrai un grande grado di gloria se tu non avrai collaborato tanto quanto puoi liberamente alla volontà divina con la tua volontà umana guardate anche i termini tecnici che usa teneramata no? a proposito di divina volontà sempre ricardo è affascinante viaggiare a grandi velocità insomma voglio dire la velocità di questo mondo cioè centinaia di chilometri all'ora ma come mai non ho sentito la vertigine della velocità ed invece non tra l'altro mi trovo qui dice teneramata questo dice oh ci siamo guardate state attenti ecco ci siamo andati veramente a questo posto e adesso non so la distanza che c'era da dove stavano da città del Messico a San Luis Potosí ma fossero stati anche 300 400 km insomma in un anche capito cioè in un in un batter in meno di un battere d'occhio insomma tu rimani ma come fate arrivare fino a qua io non ho sentito niente ah teneramata risponde innanzitutto perché in questo paratempo paratempo ricordiamoci il picco secondo è un paratempo perché scorre su frequenze diverse rispetto a quello che è il nostro tempo che è scandito dall'orologio quindi dal secondo l'unità di misura del tempo è il secondo è da lì che possiamo poi andare a ampliarlo minuto ora giorno oppure frazione di secondo decimo centesimo millesimo di secondo nanosecondo eccetera eccetera quindi in questo paratempo ti assisto uno speciale aiuto del Signore se tu avessi sperimentato la piacevole emozione di questa vertigine che cosa sarebbe successo rispondete voi saresti morto di gusto morti di gioia cioè alcune cose noi non le possiamo vivere in questo mondo perché non possiamo se saresti moriremo subito come conoscere il nome nuovo di teneramata non lo reggiamo qui santo maso d'aquino spiega che per reggere per esempio la visione beatifica nessuno può vedere Dio rimanere in vita si regge una saga scrittura nessuno può vedere Dio nessuno può gustare le cose soprannaturalmente divine di questo genere e rimanere vivo santo maso spiega che quando andremo in paradiso il signore creerà nella nostra anima il corrispondente di quella che è l'abito della grazia santificante in questo terra cioè quello che si chiama il lumen glorie si chiama così tecnicamente il lume della gloria ossia una capacità nella nostra anima e nelle facoltà di esse di poter recepire l'immensa beatitudine che ti viene dalla contemplazione diretta delle tre persone altrimenti esistono e sono fonte di immensa felicità ma non abbiamo i recettori adeguati l'esempio più sciocco che si fa e banale è fissare la luce del sole a mezzogiorno d'estate a occhio nudo non ce la fai allora innanzitutto quindi se tu avresti sperimentato saresti morto e poi perché la distanza è stata minima le rapidissime accelerazioni a cui mi riferivo equivalgono a distanze di trilioni di anni luce elevati alla potenza di trilioni mi devo di nuovo rifermare se qualcuno di voi ha una app sullo smartphone sull'iPhone c'è mappa stellare che in parte è gratuita ma poi costa una sciocchezza si può divertire a puntarlo verso le stelle la sera e c'è vicino la didascalia e diceva questa stella sta a 10 milioni di anni luce poca roba certo poca roba allora perdonatemi se sono un po' pedante ma che cos'è un anno luce cioè quanto sta distante abbiamo visto che la luce viaggia a 300.000 km al secondo allora quanti km è un anno luce devi fare 300.000 per 60 per avere un minuto luce poi devi fare questo numero per 60 per avere un'ora luce poi devi fare questo numero per 24 per avere un giorno luce e poi devi fare questo numero per 365 per avere un anno luce ecco tutte queste molteplicazioni vedrai quanti chilometri sono stiamo già nell'ordine di credo qualche centinaia di miliardi forse già stiamo nell'ambito dei bilioni o dei trilioni moltiplica questo per 10 milioni attenzione le rapidissime accelerazioni a cui mi riferivo equivalgono a trilioni di anni luce trilioni di anni luce vuol dire un miliardo per un miliardo per un miliardo di anno luce attenzioni elevati è la potenza di trilioni cioè elevato potenza quindi la potenza vuol dire che devi moltiplicare in maniera esponenziale ma cacca ma cacca ma cacca cioè questo ci fa anche già capire perché se fanno questi viaggi ma vi rendete conto quanto è grande l'universo noi siamo tutti questi tutti questi scienziatoni che girano noi siamo nessuno in tutto l'universo cioè la terra nell'universo è zero non esiste quasi è come un atomo nei confronti di tutto quanto il pianeta terra è bella questa immagine probabilmente è così sapete quanti atomi ci sono sul pianeta terra insomma un atomo è la particella elementare della materia quindi ma capito che ci aspetta e che ci starà in questi posti qui e che ci sta che c'è in giro dopo qualcosa terra amata la racconta qualcosina allora ribatte ricardo ma è davvero arretrata l'astronomia dissi tra me mai avevo letto che esistesse una distanza di un trilione di anni luce mi sarebbe piaciuto sentire la piacevole vertigine della velocità della luce per quanto fosse nella breve distanza del nostro viaggio ma mi accontentavo abbondantemente di ciò che mi concedeva la mia amata morta allora queste affermazioni fanno anche comprendere un altro limite della scienza umana che si pensano di essere che la scienza umana è sempre perfettibile l'astronomia perché noi siamo siamo limitati per quanto costruiscono i telescopi le astronavi dovrebbero arrivare se uno viaggiasse alla velocità della luce ma siano che si affaccia fuori dalla via lattea se dovesse sta in giro per tutta la vita che era la nostra galassia e riprende tenera amata a te manca di scorgere l'immensità di cui godrà nella patria mi disse ti raccomando di sdraiarti in una notte serena in un luogo molto elevato dove non ci sia l'ostacolo di albero di edificio e di contemplare per lungo tempo il fiume di diamanti silenzioso e musicale del firmamento ammirerai e sentirei la nostalgia dell'infinito vedete qui gli sta suggerendo di fare un bel giro tra le stelle in una bella notte di estate per chi conosce la divina volontà capisce che significa dove stiamo mi domandò tenera amata i miei ricordi erano confusi ma rievocai quella strada selciata vedi poco più in là la piccola piazza di Lignan si eravamo in via dell'indipendenza saranno state le 5 del pomeriggio osservai il mio abito avevo le pantofale il collo sbottonato e la giacca da casa rossastra e tanto l'ora non so perché mi viene alla mente di pensare come erano vestiti beati il vestito di tenera amata semplice ed elegante era moderno e di buona qualità ma i glorificati di altre epoche immaginai che usavano tuniche e mantelli come al tempo di nostro signore Gesù Cristo oppure che coloro formidabili poteri vestivano come a loro venisse voglia non ti piace il mio abito? mi domandò con accento di preoccupazione è molto bello è molto bello comunque compariresti bene con qualsiasi veste non ti meravigliare per quanto sto per dirti noi beati non usiamo nessuna veste non ne abbiamo bisogno né per proteggerci dal cattivo tempo che non ci raggiunge se non per goderlo né per coprire i difetti fisici che nel cielo non esistono né per vere condia già che nella gloria non c'è malizia e tutti siamo impeccabili vedi per venirti a trovare io stesso ordinai agli atomi sentite come si è fatta il vestito che si organizzassero che si combinassero e si organizzassero per formare il mio vestito ed essi mi obbedirono con piacere al modo loro è chiaro ma forse sbaglia e mi risultò una veste ridicola certo la mia concupiscenza di mortale esaltò la mia immaginazione capiamo quello che sta dicendo e non so come dire mi innamore ancora di più della mia amata morta lei per se stessa così bella e attraente persino vestita alla maniera nostra mondana mi pareva più bella della migliore attrice di cinema o della ideale Elena di Troia spero che nessuno abbia fatto pensieri tipo Riccardo che qui confessa dice la mia concupiscenza di mortale esaltò la mia immaginazione noi dobbiamo pensare che stiamo in un'altra dimensione qui non possiamo andare in giro nei campi nudisti perdonatemi l'uscita un po' non si può non è possibile né si può andare in giro nudi come dovrebbero imparare qualche signorina e rimpararla bene neanche con la scusa del caldo non si può perché c'è una cosa che si chiama concupiscenza c'è il peccato c'è la malizia malizia qui siamo in interdizione noi non possiamo anticipare sulla terra comportamenti che si hanno nel cielo perché nel cielo il peccato non c'è nel cielo la malizia non c'è d'accordo difetti cioè in cielo siamo tutti siamo tutti quanti statuari bellissimi non scherziamo su queste cose non non minimizziamo non prendiamole alla leggera noi beati non usiamo nessuna veste non ne abbiamo bisogno non si soffre il freddo nel caldo non cioè si può guardare la bellezza cioè allora amici facciamo uno step indietro il corpo umano di per sé sia maschile che femminile è creato da Dio quindi di per sé di per sé è sommamente perfettissimo e non c'è niente da nascondere di per sé ma c'è il peccato originale sapete che c'è un aneddoto attribuito a un Papa forse a Giovanni XXIII che pare che ci fosse stata una signorina un po' sfrontata che abbia osato andare a pranzo dal Papa con abiti leggermente succinti qui siamo negli anni 60 d'accordo? non siamo oggi allora si narra sempre in questo aneddoto che il Papa chiama un cameriere e gli dice di portare una certa cosa a questa signorina un po' in vereconda insomma questo gli porta un vassoio d'argento io lo porta lo faccio breve che dobbiamo chiudere questo è da parte del sommo contefice apre sto vassoio e c'era la famosa mela rossa dice oh grazie santità del pensiero questo non l'hai capito dice prego figliola la mangi perché solo dopo aver mangiato il frutto proibito Emma si accorse di essere nuda questo ci fa capire un pochino qui non si può qui non si può tante cose che descriverà Teneramata non si possono vivere sulla terra è impossibile quando verrà il regno della Dina Volontà mistero chi lo sa io a occhio che sia proprio possibile tutto quello che vede Teneramata faccio fatica però questo lo sa soltanto nostro signore in ogni caso in presenza di peccato di corruzione di malizia queste cose ce le dobbiamo scordare ed ecco perché si è fatta il vestito avete visto come si fanno i vestiti gli atomi ubbidiscono si compongono e gli vanno addosso tanta roba e lei ce la vuole dice ma forse ho sbagliato qualcosa questi atomi li ho aggregati male magari risultano ridicoli bellissima più di una star di Hollywood o di Elena di Troia insomma il che non è poco ci vediamo alla prossima puntata mi dice benedica e la madonna sempre ipotec grazie a tutti